prego prego sia comodi buonasera salve sono Bruno Pizzul direttamente qui dallo studio Meditas e perchè ci ha lasciato in testa? sono i miei capelli bianchi questi ah ho capito questi sono i mezzi che ci offre la regia guardi l'espogo alla situazione mi sono ingoiato una puntina di diseglio è grave? no si figuri io una volta ho ingoiato una puntina ma di un giradischio e non mi è successo niente e non mi è successo niente guardi mi sono ingoiato una puntina di giradischio si già scapazzati guardi mi sono ingoiato una puntina di giradischio è grave dai disegno cazzo